ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi vi propongo un piatto antico e tradizionale la polenta infatti questo piatto è ricco e sostanzioso ed è tipico di molte regioni italiane ho deciso di accompagnarla insieme ad un'ottima birra artigianale la birra rossa doppio malto dell'azienda birra suprema in una pentola bella capiente far bollire l'acqua con il sale dopodiché aggiungere poco alla volta la farina per polenta di mais o gran turco mescolando per non farla attaccare io ho deciso di condirla con il ragù fatto in casa e con un sugo di funghi realizzato con i funghi raccolti da me e a questo punto è pronta per essere gustata accompagnata ad un'ottima birra la birra suprema rossa doppio malto spero che questa mia ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti